Siamo con la delegata del Sindaco Raggi per il decimo municipio, Giuliana Di Pillo. Buonasera, questa mostra è importante sia per Ostea ma anche per la struttura che la ospita, l'Ex Depol, il centro polifunzionale. Sì, allora intanto è una mostra bellissima dove si respira un'aria veramente di grande valore, di grande valore e di grande emozione. Poi situata in un posto al centro di Ostia che è molto bello, insomma, anche il posto di gran valore, proprio nato poi per questo tipo di situazioni, proprio a livello di esposizione. L'emozione è grande, la struttura è bella e penso e spero che si possa dare avvio anche ad un percorso per cui questa struttura possa ospitare eventi tipo questo.